Benvenuti amici telespettatori a Water Slambo, questo è Dan Peterson che vi parla Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao Io ho Mekini, vabbè che adesso ne ha 5 Non ce la fa Mekini, esce solo l'ora dall'acqua Vediamo Fossi Oh, Fossi, Fossi, cosa ha messo Fossi? Milanesi E la barra arriva fin qua Napplicco, Ah, U! Non ce glirà ne traf Ok, Papp, Papp La barra, la barra La barra, la barra Vabbè Nene Eeeeeeeh Sì Ma la fai è difficilissima ragazzi Sì Ma l'ho fatto prima il caletto di ovo Sì Stai ad ammattare però La fai è sta La fai è sta Non credo Che sta a pezzo No vabbè, vuoi dare il sottolino Ma vabbè, vuoi dare il sottolino E' una morte Ma vabbè Ma vabbè Ma vabbè Ma chi mi fa se è piotto Ma vabbè Ma vabbè Sam Fletcher Guardate come si fa alchine di prima degli italiani Eh Ma quanto siamo da Roma Una sottolino Voi una settimana Ah una settimana dai campionati italiani Di Roma E' una sottolino 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 Oh E' una sottolino 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 Ah Oh, e allora fai, stai in acqua! Va bene, Luca! Va bene! Oh, guarda, 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 guarda. Sì, va bene. Non ho nemmeno guardato, guarda. È un face-off! È un face-off! È un face-off questo! Oddio! Guarda, guarda, guarda! Sì, sono! Sì, sono! Sbagliato! È brava? No. Sì o no? Sì, è un face-off! Sì, è un face-off! Oh, fuf! Oh, ma... Aspetta, vai! Vai, ci sono... Ah, ma non c'è! Non aveva la segreta tecnica o uso di Fletcher Fossi! Ah, aspetta! Ho uso Fletcher! Com'è la letta, guardiamo il primo piano... Eccolo! Non va! Non va! Aspettione, Mecchini, guardiamo Mecchini! Con questo è il passo! Oh! Oh! No, è un video! È un video di... Cinco minuti, poi... Non lo mandate a Fabrizio! No! Non ce l'ha visto lì! No, c'è Fabrizio! No, non c'è Fabrizio! Giù, c'è Fabrizio! Cazzo, me la metti! Dammi, dammi il telefono, va! Dammi fuoco tutto!